E allora, tutte e venti, adesso le vediamo una ad una perché faranno una bellissima passerella tra di voi e parte così la numero uno, accoglie l'applauso del pubblico dell'intica! Bravo, grazie Andrea, così! Oh, vedi la serata come cambia totalmente così! Prima c'è Romino e guarda cosa c'è adesso, grazie! Bellissime! E allora ci lascio anche tutte le ragazze che poi le rivedremo, le rivedremo! E poi c'è anche le ragazze che ho avuto un po' della zona che ci sottomarica, la gogia, i ragazzi di Miami e la scala stessa stasera, la scala staglia, 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 la scala staglia. E' un po' di pronto ragazzi, se lo chiedete anche venire un po' più avanti ragazzi, grazie mille! La numero 18, bellissima anche lei, si chiama Claudia, è alta 2 metri 10 ragazzi, 100 tappi, ammazza! Chi dove sei Claudia? Lei di Padua ragazzi, se volete venire Claudia, dovete visitare il numero 18, cioè uno, Claudia! La scala staglia è alta 2 metri 10 ragazzi, la scala staglia, 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 la scala staglia! Sai che bello ci dovete sentire le mani al centro della diga ragazzi! Oh bravi bravi! Un saluto a tutti i paristi, tutti i paristi della diga che vi vedo di là, a tutto lo spazio di Marmar e Barger, brava ragazzi! E lei è la numero 18? E lei è la scala staglia! Potete anche salutare la giuria, potete anche salutare la valencia, si, ha salutato la giuria, bravo! Andiamo, andiamo andati con la numero 19 ragazzi, questo è il terzo e ultimo gruppo, e poi andremo con le due decisioni ragazzi, perché aspettiamo il verdetto della giuria! Aspettiamo il verdetto della giuria! prima classificata concorso moda sotto le stelle la cattava un titolo di l'oro la numero di tosso la numero di tosso di sogna Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.